Dopo quattro mesi in attività abbiamo ripreso la nostra attività presso con un nuovo fornitore e la gente sta rispondendo abbastanza bene e in questa occasione abbiamo creato e stiamo cercando di fare della beneficenza in favore delle persone comunque disagiate che in questo periodo di crisi sia la crisi sia il Covid-19 che ci ha distrutti stiamo cercando in associazione con una parrocchia di fare benevolenza la gente sta rispondendo con donazioni e quindi i beni di prima necessità